signore sta sognando era un mezzo mago così ce lo siamo portato con noi tutta quella bellezza i vasi l'oro tutto lasciato lì per un mondo che non si sapeva neanche se c'era il mondo delle anime cerco la signora flora ma le avevo detto che sarebbe tornata guarda guarda chi c'è l'altro è unico amico taglia grazie mangia se vuoi su chi vuoi sei se vuoi posso farti un corso accelerato in italiano vedremo d'occhio incantesimo it's of inestimable value but that's what we're here for estimate the inestimable trovare le cose delle anime vi maledico non ti perdere d'animo tu trovi sempre tutto eh adesso ti facciamo vedere delle cose che nemmeno gli archeologi se le sogno non ti perdere d'animo